buongiorno ragazzi benvenuti o bentornati in questo nuovo video direi di far partire la sigla perché non abbiamo tempo da perdere eccoci tornati ragazzi dopo la sigla oggi ragazzi come avete visto parleremo di bronze selection allora bronze selection partiamo con vedere il layout del pacchetto ormai siamo straabituati a vedere questo bianco con questa ma questo colore un po mi ricorda molto la terracotta ragazzi che dire io passerei alla snasata e alla prova di fumo così almeno vediamo un attimino che cosa ne penso beh l'apertura del pacchetto delle bronze molto dolce ci lascia questo questo sapore dolce quasi secco è un dolce secco una cosa un po strana particolare sinceramente le ho volute fumare parecchio in questo periodo perché le bronze sinceramente le ho sempre lasciate da parte ho fatto un grande sbaglio quindi ragazzi io passerei molto tranquillamente alla prova di fumo a ho appena bevuto il caffè sa tutta tutt'altro che sigaro secco ma dolce è particolare ma è veramente gustoso secondo me questa ragazzi a me a me è piaciuta veramente tanto tanto è vero ragazzi che sto fumando l'ultima l'ultima sigaretta io non so voi che cosa ne pensate se siete d'accordo con me che le bronze selection è un tabacco molto particolare sicuramente un tabacco secco che potrebbe eventualmente andare a ricordare un tabacco di un sigaro ma allo stesso momento ti rilascia quel quel non so che di dolce po particolare cioè non è malvagio fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate il sapore in bocca ragazzi è veramente cioè all'inizio sentiamo questa botta di dolce per poi quando buttiamo fuori il fumo sentiamo proprio il tabacco secco è veramente pazzesco questo bronze selection io non so quanti di voi le avete lasciate perdere perché magari non convinti io invece sinceramente continuerò ad acquistarle è un pacchetto che secondo me vale la pena andare ad acquistare il mio pensiero secondo me secondo me queste bronze selection e vi dico una cosa molto forte sono più piacevoli delle russet o è bestiale come in fase di ispirazione del fumo si senta questo dolciastro poi quando butti fuori il fumo è un tabacco veramente veramente secco è pazzesco mi raccomando ragazzi se vi è piaciuto questo video vi chiedo di lasciare un like iscrivervi al canale perché abbiamo un obiettivo qua sopra che sono i 1000 iscritti abbiamo sorpassato ormai i 620 iscritti siamo a 629 spero che nei prossimi giorni con l'uscita di diversi video crescano continuano a crescere io ho tante idee in testa magari faremo qualche confronto perché alla fine la playlist della it's aromi italia è praticamente quasi finita mancano giusto due o tre pacchetti ho creato un ulteriore playlist che è filt aromi italia quindi poi le andremo implementare man mano che usciranno se usciranno eventuali altri pacchetti e nulla ragazzi io spero che questo video vi sia d'aiuto ciao